Signori oggi siamo da Cyclops VR per giocare a Versus, un laser game con la realtà aumentata Tradotto, giocheremo due contro due in uno sparatutto futuristico in prima persona In VR! È più di prima persona perché sei dentro la persona, hai capito? Sei la persona! Prima di lasciarvi al video vi informiamo che in descrizione trovate tutte le info Detto questo, noi vi lasciamo al video Dove sei? Non vedo nessuno... Oh, ciao! Ciao, abbraccio, vieni qui! Non mi tocca questa scuola con te, perché quindi cosa state facendo voi due? Ci stiamo abbracciando Sì Dammi il culetto e tu perché chiamo? Ma io cosa sto vedendo? Fammi capire, Giovanni, possiamo spararci oppure prenderci a pugni? Sì, sì, anche a calci se vuoi Calci è più facile No, no, ti prego non fare, mi fa male? Ok, ci siamo E quindi dove andiamo? Io sono a blu Noi siamo rossi, Totara Ok No, devo condividere il mio spazio vitale con Spong Non troppo vicino Un metro di distanza, laggiù devi andare Eh, questo è il mio Spong, che devo farci? Vieni qua, vieni qua Fammi un po' di spazio Scusate, Eso, vieni Ciao, grazie Oddio Ma che figata Ma cosa fanno gli amorini quei due? Quindi abbiamo uno scudo Scudo e una pistola Perché non muori? Perché qui sono immortale, stupido La base è figa e claustrofobica Una sola uscita Gang, 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 gang Gang, gang, gang Oh no, abbiamo qualcuno Giovanni, se carichi il colpo con la pistola con lo scudo E poi sciotti Se devi fare una rotolata Permesso, eh? Vai, allora Permesso Gang Ma sì, ma che cosa Offensiva potente Ah, no, sono morto Ah, pure io Double kill Wuhu Doppia Donde stas? Distrutta Mi son cagato in mano Per dio Ho sentito i passi, Bertra Hai sentito i passi? Ah, gli hanno dato una testata contro qualcosa Non sono ancora morto Ho vita? Fuori? Ma perché non sei morto tu? Sono fortissimo Lì No No Perché non ho più colpi? Uffa Sparagli Bravo camper, approfittane Camerback, tu camperi sempre figa Pusha un po' Ma perché tu non muori? Perché sono fortissimo Ma c'è, non ha uno scuro e non muore Ti hai messo due armi Spawn, strategia Attiva gli scuri Ok Io tolgo gli scuri e io sparo Tu mi fai l'ascuro Ok, ok, ok Come è morto io? Ma come è morto io? La spawn Mi farò una cosa devi fare Oh, io, io Io gli ho deflesso Io gli ho deflesso Io gli ho deflesso contro tutti i colpi Batte cinque Cinque Totta Siamo in svantaggio di uno Vieni qua Vieni qua Ti disintegro E muori Mi hai intesantemente hittato 8-8 Giova, non morire 8-8 8-8 Puttata Ma? Ho trollato, ho andato Contro il muro Eh, pur io Non puoi copiare le strategie No Giova non... Sì Abbiamo perso? No Giova, abbiamo vinto Solo che siamo i colori sbagliati 19 No Ciao ragazzi, venite qui, pugnetto di amicizia Vedi, è sempre Spoon che trolla, guarda, guarda Camper, io ho fatto lo scudo a mano, che cazzo vuoi? Cioè, Spoon, sei come Totta Che è un insulto, scusa Sì, perché sei XD don A chi che ho fatto il jumpscare, a Bertra o a cosa? A me, Dio bono, che paura Faccio diventare un gioco dell'orrore questo, Bertra Non più uno sparatutto Allora, possiamo fare una gara di ballo in questo livello? Sì, facciamola Vieni, dove sei? Dammi le manine Io suono il violino Dammi, dammi Aspetta, mi devo... Mi brude il sopracciglio Fate la scena di John Travolta in Pulp Fiction Ok Aspetta, ho le mani nel posto giusto? Dove sei? Scusi te, Bertra Cazzo Vieni, balliamo Sesso VR Sesso VR Vieni qui, pirouetta Intendi per caso famoso streamer fa vedere i suoi porno in VR in live? Non dire queste cose No, non si fa Cattivo Come fai ad essere alto due metri, camper? Cosa hai fatto? Che sono due metri? Fica, ti arriva qua la testa Beh, è lì che sono la mia testa Questa cos'è? La mia spalla La mia testa Che cazzo è la tua testa? La stai trapassando Come faccio a non toccarla? Ah, ok Sei un po' sfasato, va bene Ok, strategia, ferma Ferma, strategia Salimi in spalla Salimi in spalla Vai, io gli scudiccio il tuo pistone Vai Tu vai a sinistra e vai a destra Scudo E scudo? Doppio scudo? Sì, doppia arma La tecnica ha fallito malamente Però era un'ottima tecnica Sono fiera di noi Oh, ma è uscita pure no Beh, però Beh, sì Era dietro di me Era questa Stavo sentendo i passi attraverso il muro Fermo, sono innocente Non lo sente Umiliata No, ma chiedo il bar Chiedo il bar Questo non vale Sei un... Oh, che cazzo Ti vendico io, giovane Sono stato picchiato selvaggiamente io Ho usato l'attacco miri Dejago Ah, Carlo ha detto che è fortissima, ragazzi Ma che succede se vado di qua? Oh no, sono in territorio avversario Ma come è morto io? Ah, quell'altro Bisogna cominciare a correre in questo gioco, te lo dico Ricarichi di arma di merda Ah, qui non c'è nessuno E' accontellato Oh, devo evitare, cazzo Ho uno sponchilla, quello No Ma Doppia Muori, muori Sono già morta, perché devi impiedere? Oh, fuck Che depressione Che tristezza Oh, com'è il punteggio? Via Carper, siamo 7-8 per noi Bertra Dobbiamo fare una tappi Una tattica Per vincere Stiamo perdendo E qual'è la nostra tattica? Uccidiamoli Ok, mi piace Ahia, questo è il tubuletto Ma com'è death? Muori, bastardo Ho vinto No, vabbè Come 11, si arrivava 10 prima Manteniamo vantaggio, ci vanno a morire E niente, me ne devo stare zitto Quanto siamo? No, è finito Una a uno Ah, ma non si arriva a 10 Si arriva a 3 minuti Sì Non erano 3 minuti Questi erano 16 minuti Scusami Bertra, ti sto deludendo Ho devastato sto game Sì, si vede, si vede Ma curate una a uno Anche tu Diciamo che la difference È un po' rosa Come? Eh? Cioè, volevo dire rosa Perché ti vesti di rosa Bertra? Perché sono bellissimo Io sono stanco però Come la mettiamo? Madonna che pippa Sburbix, vieni qui Dove vai? Ho un estratto Eh? Ho una strategia Ti prendo Allora, troviamo un muro Ma ci stanno baciando quei due Ti tiro su E andando sopra il muro Tu li vedi Ok, vai, vai No, no, no Ci facciamo male No, non ci facciamo niente Fidati Aspetta No, no Ok, così ti riesco a tenersi Aspetta Proviamo Vai, vai Preso Ah, lo sapevo Facile Facile Spawn killing Non vale, non vale Sono troppo forte Che falliti Top falliti, raga Non sto cadendo Aiuto Aia Scusa Ti ho fatto un montante Ciao Bertla Non senti i passi? Camper siamo 5 a 1 Possiamo anche cominciare a trollare Sì Ecco Appunto Bertla Stiamo perdendo rovinosamente Adesso gli do le pisse Ma? Da dove? Da dove va preso? Ma? 5 a 9, Camper Possiamo stare qua un minuto E vinciamo se vuoi Ok Beh, spara Spara, no? Ma come da dire Davvero? Top falliti, cazzo No Siamo uccisi a vicenda Sì Vieni qua No Bella, bella Muori Reflexato Minchia ma C'è nel silenzio e nel tryhard qui? Sì, sì Questo è proprio il tryhard Se si parla Si rivela la posizione Fanculo Oh no, no, no Spara Spara sotto Lo scudo è id non p Ve lo dico, eh Sì, lo so Spara Oh sì Ma come è morto io? Ma gli ho sparato 20 colpi Io ho deflexato i punti I colpi Oh, siamo a 15 kill A posto, abbiamo vinto No, 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 continua Abbiamo a fare 17 Sei matto? Ah, no Le cazzo è? Quindi è il pute, Camper Ah, è brutto la strada Il verdoso Giù adesso, Berti Dai giù Adesso non ti beggo Oh no Ah, io ho delle... Ci sono Cosa stanno vedendo ai miei occhi? Uff Coloscopia 17 kill Le abbiamo fatte, Camper Comunque, Camper and IP è 10 kill Tutte a meno Ho imparato che si spara col tasto del... Del grilletto Del grilletto Non era facile da capire Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Noi ringraziamo gli amici di Cyclops Voglio una doccia, per favore E una birra, però Ognuno ha i suoi desideri Se volete provarla anche voi Vi lasciamo tutto in descrizione Gli amici di Cyclops VR Si trovano in via Riccardo Pitteri 56 Milano A due minuti dall'uscita della tangenziale Rubattino Poi io vengo da Trento Quindi per me è arabo questo Il locale, oltre a Laser Game È anche un bar, quindi Drinchettino, ape E via E poi partitino Per due settimane Da quando escirà questo video Voi venite nel bar e dite Mi mandano gli iNub Fate un occhiolino anche due Vi fate una partita e vi regalano l'aperitivo Solo se gli dite che vi mandiamo noi Offerta ai Nub E niente, noi ringraziamo Bertra e Totta Per aver giocato con noi Grazie amici milanesi E niente, noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao